Siamo a Motodays in Fiera di Roma con un campione, un campione nella vita, oltre che un campione sulla pista. Max Biaggi, comincia adesso la tua seconda vita, quindi sei proprio un bambino, sei all'inizio, qual è il tuo futuro? Non proprio bambino, ma è iniziata da poco tempo la fase 2 della mia vita, adesso non più pane sport e competizioni, ma anche adesso lavoro per Italia 1 e anche altre collaborazioni. Adesso è tutto nuovo per me, mi sto guardando intorno. Vorresti dare un consiglio ai ragazzi, sia dal punto di vista della sicurezza a che cosa devono fare attenzione, ma secondariamente se vogliono competere che cosa vogliono fare, cosa devono fare? Ma è sempre un po' il crucio più grande quello di dar consiglio, comunque individuare una strada, in realtà non c'è mai una strada vera e propria, la mia, per esempio, può essere presa come esempio, è stata tutt'altro che decisa a tavolino, è casuale, ho scoperto questa passione per caso, proprio con un amico un giorno, io ero appassionato di tutt'altro sport, dunque ho scoperto di avere insomma la capacità, chiamiamolo il talento per questo tipo di sport, ma vedi forse ognuno di noi è tagliato per qualcosa, neanche lo sa e poi si trova in quell'occasione e può dare sfogo alla sua dote. Ma in realtà quello che mi viene da dire è che chiunque, l'utente delle due ruote è un utente che può essere libero, però quando parli di libertà in una città con 5-6 milioni di persone diventa difficile, convivere con le auto, le autobus e tutte le altre cose che possono rendere pericoloso il motociclista è difficile. Con le inciviltà anche? A volte, sai, i motociclisti poi non sono sempre visti bene, lo ricordiamo, però si può convivere, anzi la mobilità a due ruote credo che sia l'asso nella manica per tante persone che usano proprio questo mezzo per vivere. Io spero solo che ogni volta che uno accende lo scooter o la moto inserisca bene il cervello, che sia ben inserito, perché quella è la cosa più importante.